Musica Sul Mediterraneo centrale la pressione livellata su valori medio-alti, 1015 hectopascal, infiltrazione di aria fresca alla media troposfera, favoriscono condizioni di moderata instabilità sulle regioni centro-settentrionali della penisola. In Toscana venerdì 15 settembre poco nuvoloso al mattino con addensamenti pomeridiani che potranno dar luogo a locali e brevi rovesci temporaleschi più probabili su Appennino, colline metallifere e amiata, venti deboli meridionali, mari poco mossi, temperature stazionarie o in aumento alle massime nelle zone interne. Sul territorio provinciale sereno poco nuvoloso, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 18, massima 28 gradi, a Castelnuovo-Garfagnane zone montane minima 15, massima 25, a Viareggio e sul litorale minima 19, massima 27 gradi.